Buongiorno a tutti, mercoledì 25 febbraio 2015, 7.30, questa è la rassegna stampa di Fano TV. Occhio ai giornali, come tutte le mattine ci ritroviamo qui insieme per sfogliare il Carlino, il Corriere ed il Messaggero, ma sfogliamo anche il calendario, come in questo caso per vedere il Santo del Giorno. Oggi la Chiesa ricorda San Cesario di Nazianzio, confessore, il sole è sorto alle 6.51 e tramonterà alle 17.51. Non so se lo vedremo oggi il sole sotto questa coltre di nuvole che sovrasta gran parte dell'Italia, anche la nostra regione, con piogge, piogge insistente anche lungo la costa. Vedete la fotografia delle 7.30 del nostro osservatorio, questo è il satellite, non so se riusciamo a farlo vedere. Vedete, eccolo qua, il satellite con le immagini animate dell'Italia che è sotto questo vortice ciclonico che porta pioggia. Pioggia non è freddissimo a dire il vero perché vedete sono 9 gradi, quasi 10 gradi questa mattina alle 7.30 a Fano. Da mezzanotte sono caduti 8 mm di pioggia, 9 mm di pioggia, un po' di vento ma niente di che. Allora, andiamo a vedere invece le previsioni per la giornata di oggi. Come dicevamo, precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio, più abbondanti nelle zone della montagna, nell'entroterra dove sarà mista a neve, il limite delle nevicate è in abbassamento attorno agli 800 metri a nord, localmente anche a 600 metri durante la notte, mentre nel sud della regione si manterrà il limite delle nevicate attorno ai 900 metri. Le temperature sono in diminuzione. Per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 26, ancora precipitazioni diffuse nelle zone di montagna, nevicate al di sopra degli 800.000 metri, le temperature sono senza variazioni di rilievo. Per la giornata di venerdì migliora un pochettino sulla provincia di Pesaro e Urbino, ancora nuvoloso, con precipitazioni sulla parte centro-meridionale. Il limite delle nevicate è intorno ai 1200 metri, questo per effetto dell'aumento delle temperature. Per i prossimi giorni avremo possibilità di deboli precipitazioni sulle Marche anche nella giornata di sabato, probabile invece tempo stabile nella giornata di domenica. Cominciamo a leggere i giornali dal messaggero di Pesaro. Troppi furti, Matteo Ricci, va nei quartieri. Assemblee su sicurezza e prevenzione per arginare la piaga dei colpi nelle case. Da metà marzo il sindaco di Pesaro incontrerà i residenti insieme alle forze dell'ordine. Il quadro di Leonardo. Ora i parenti accusano Bibi di aver rubato il quadro, secretato l'interrogatorio di oltre sette ore dell'avvocato fanese Savo. I parenti di Bibi sono sul piede di guerra, l'accusano di aver rubato il quadro di Isabella d'Esta attribuito a Leonardo dalla camera da letto dello zio Walter Cecchini nel 2009, mentre lui era ricoverato in ospedale in fin di vita. Accusa contenuta in un esposto che i parenti di Emilia Cecchini, la vedete in questa fotografia, hanno presentato poco tempo fa in procura. Al momento però la donna continua a essere indagata per un'unica ipotesi di reato, esportazione illecita di opere d'arte dall'Italia all'estero. Allarme della CGL, sanità nel caos e cresce la mobilità passiva. Simona Ricci, segretario della CGL, i cambi di strategie rispondono solo a logiche dirigenziali, tagli continui e soltanto silenzi invece su Montefeltro Salute. Mattone Crack, la resa di Lanari, ufficiale, il fallimento della fortezza SRL. Niente concordato, il costruttore dice ho lavorato bene ma la crisi non mi ha dato scampo. Camiciola va avanti con la Comaros, quindi fallisce la società del costruttore anconetano Pietro Lanari. Ancora dal messaggero, assemblee nei quartieri, dicevamo per frenare la piega dei furti in appartamento, Matteo Ricci a giorni ha detto incontrerò esponenti di governo per spostare la questura all'ex intendenza. Mentre a Pesaro la tassa di soggiorno è aumentata ma resta più bassa della Romagna. Per gli hotel a tre stelle salirà di 30 centesimi. L'assessore Belloni faremo investimenti sul lungomare. L'applicazione per segnalare le buche nelle strade a Pesaro funziona, è gratuita. L'assessore Biancani parla di attacchi paradossali da chi cavalca le nuove tecnologie e la trasparenza. Ancora Bibi accusata di furto del Leonardo. I parenti ritengono che abbia rubato il quadro dalla Camera dello zio come dicevano nel 2009. Ieri è stato ascoltato un altro legale oltre a quello fanese Savo ma per quel dipinto nel cavo qualcuno avrà firmato e pagato i diritti di custodia. L'avvocato Razzi si è occupato di mercato d'arte, c'è un percorso dice ben specifico da rispettare. La pagina di fano invece del messaggero, i comuni Aset sostengono Rincicotti e Orciani. L'appello dei sindacati, la società è pubblica ma le amministrazioni non la impiegano e anzi finiscono per spendere di più. Sul dragaggio l'accordo si firma a inizio marzo, la regione, il sindaco Seri riceve garanzie dall'assessore Giorgi. La Mercedes prende fuoco, il guidatore si mette in salvo, paura ieri mattina per un rappresentante di commercio che ha visto l'auto prendere fuoco proprio mentre la stava guidando, è successo a Santa Maria dell'Arzilla. A centropagina nautica, CNF affonda in 146, sono senza lavoro. Cantieri navali fanesi chiude, mobilità per tutti i dipendenti. Il curatore fallimentare ha sbloccato lo stallo permettendo l'avvio degli ammortizzatori sociali ma restano paghe arretrate e famiglie senza reddito. Presto i lavori al cimitero, auto revocati tutti i permessi. Allora attenzione, dal primo di marzo saranno revocate tutte le autorizzazioni rilasciate dagli uffici comunali per entrare con l'auto privata nel cimitero dell'Ulivo, a Fano nella zona di Roncosambaccio. Le modifiche alla viabilità interna sono state decise dal sindaco Seri e dureranno quanto i lavori per ristrutturare la palazzina dove dovrà essere realizzato l'impianto per cremare le salme. Allora, la pagina di Pesaro del Corriere Adriatico. Ferie del personale, assistenza tagliata. Dopo la denuncia del sindacato Ricci sospende il provvedimento. Tutti i conti che non tornano. Impossibile sostituire infermieri e operatori sociosanitari. La soluzione sarebbe diminuire i tempi di presenza nei reparti. Riposi, Montefeltro Salute e atto aziendale. La CGL evidenzia incongruenze e decisioni poco trasparenti. E ancora, scoperto un deposito di scarica ad Urbino, all'aria aperta, rifiuti speciali, denunciato il titolare di una capannone. E poi sotto, la Croce Rossa italiana dona materiale alle scuole. A Fossombrone consegnati prodotti per l'igiene e le pulizie nei 12 comuni del comprensorio. Dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Affidati lavori con procedura d'urgenza per il rio Crinaccio, un'azienda di Senigallia incaricata per 85 mila euro, di allargare il letto del torrente nell'attraversamento di via Miraglio Cappellini. Anche in occasione del maltempo di inizio febbraio, la strettoia aveva causato un allagamento. Sulla Rincicotti e Orciani, svalutazione e danni errariali, la CISL protesta per la cassa integrazione dei dipendenti con l'uso di ditte esterne per i servizi. Vince l'auto della lotteria del Carnevale e glielo dice il barista. Non ci credevo, è un commerciante di Marotta, ma così o mai così favorito dalla sorte. Peppa Fish nelle mense, salute e pesce fresco, l'impegno di Regione e del Comune di Fano. Ancora dal Corriere, solo degrado al centro civico, polo holding inadempiente, il Comune di Fano vuole incassare mezzo milione. I lavori all'immobile dell'ex colonia Inam, fermi da anni, penalizzata l'attività delle associazioni del quartiere. Stiamo parlando del cantiere bloccato di Fano Alta a Gimarra, l'ingresso nord della città. Ancora la compagnia GAF compie 30 anni alla rassegna Cianfrusaglia e poi auto vietate, da domenica solo le navette al cimitero. La decisione per un cantiere all'olivo. Due progetti di quaresima per bambini e profughi, le attività della Caritas in aiuto dei più deboli, sostegno in città a chi è colpito dalla crisi e sul piano internazionale, i perseguitati in Iraq. Ancora dal Corriere Adriatico, la storica battaglia del Metauro, la rievocazione di Monte Felcino, quest'anno coinvolge oltre 150 figuranti. Appuntamento nei due campi allestiti a sterpeti, con gli spettacoli fissati per il 23 e per il 24 di maggio. Chiudiamo il Corriere con la pagina di Senigallia. Non paga il gigolò, aggredito e sfregiato. Brutta avventura per un anziano di 73 anni che si era appartato con un extra comunitario, poi scoppiata la lite. Lo straniero lo ha sorpreso sotto casa, ferendolo ad un occhio con una lama. Adesso indaga la polizia, mentre multe antilucciole e sanzioni pure a chi abbandona i rifiuti. Chiudiamo con il resto del Carlino. La storia d'amore, la storia di grande amore di questi due genitori che hanno perso un bambino di 10 anni, lo ricorderete, Francesco, morto di meningite qualche settimana fa. Hanno cremato il loro piccolo, le ceneri adesso sono tornate a casa nella stanza in cui per 10 anni ha vissuto questo bambino. Siamo tornati a casa con Franci, questo è il titolo, è una non vita, ma lui è con noi. Gianluca Maraschi racconta la scelta di far cremare il figlio di 10 anni. Tre persone ci hanno detto di averlo sognato sereno e sorridente. L'ultimo caso ci ha riportato all'angoscia. Quel caso che però poi di quella ragazzina, di quella bambina di 12 anni di saltare che per fortuna dagli esami fatti hanno accertato che non si trattava di meningite ma di streptococco che è un'altra cosa. L'urna, scrive il resto del Carlino, l'urna con le ceneri è nella sua camera insieme alla maglia di Pirlo anche la Juve, la Juventus ci ha scritto. La pagina di Fano del resto del Carlino cinque mamme diventano imprenditrici. Sono i vostri bambini la nostra risorsa da due luoghi in cui lasciare i piccoli sono Piazza Pupazza e la Casa Tonda. Informatrice, farmaceutica e architetto così abbiamo cambiato i nostri progetti. È una storia che questa mattina viene scritta e raccontata da Tiziana Petrelli nella pagina di Fano del resto del Carlino. Contro i ladri il titolare torme nei capannoni. Due capannoni industriali visitati lunedì notte a Bellocchi ma in quello dei 360 gradi 360 gradi arredamenti di Gianluca Peruzzini è scattato l'allarme che ha messo in fuga i ladri. Andiamo sull'altra pagina anzi qui c'è anche la notizia dell'acceleratore bloccato di quella Mercedes che è andata a fuoco a Santa Maria dell'Arzilla in colume l'autista sono intervenuti i pompieri. Il caso Rincicotte-Orciani anche sulle colonne del Carlino ma almeno fateci lavorare il sindacato perché il comune non le assegna i servizi l'azienda rischia la liquidazione. La crisi che dura dal 2008 venne acquistata per un milione nel 2012 all'asta per 200 mila euro. E poi continua il dibattito sul Burka quella sinistra che semina odio. Questa mattina risponde la segretaria della destra Margherita Campanella criticata dalla consigliere di SEL Carla Luzzi e non solo ma anche da un'altra esponente del Partito Democratico. Poi da sempre dalle pagine del Carlino la provincia ripara la carreggiata a Orciano e abbandona i resti dell'asfalto rimosso. Un imprenditore segnala rifiuti speciali lungo la provinciale. eppure noi dobbiamo stare attenti a come li smaltiamo se no scatta la sanzione e dunque si parla di due pesi e due misure. Duello rusticano in strada invece a Pesaro si azzuffano per un uomo dalle parole agli schiaffi in zona torraccia per dividere le due donne è dovuta intervenire una pattuglia dei carabinieri. Poi blizza antirom sequestrate sei roulotte in via dell'Acquedotto e in via Togliatti. Chiudiamo con la multa al ristorante Cozza che viene giudicata da Confcommercio come una vergogna e la Confcommercio l'associazione di categoria scende in campo il caso scatena la reazione delle associazioni e delle forze politiche lo ricordiamo per non aver scritto in una vetrofania con l'immagine della telecamera che riprende con la videosorveglianza interna per non aver scritto lì chi è responsabile delle immagini e dunque della privacy e quant'altro questo signore questo titolare rischia 12 mila euro di multa. È tutto grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale arrivederci e vi do appuntamento